qui vicino c'è un forno che mi ricordo benissimo mia mamma faceva il pane questo secchiello di rami direi proprio in dialetto se c'era seggia dall'acqua c'era in tutte le case della verzasca siamo allontanate dalla casa perché cominciava arrivare acqua anche dentro nella casa al centro c'è il nonno paterno che prima ha fatto lo spazzacamino per tanti anni e poi dopo si è andato oltre mare come adesso chiamerebbero cowboy